Ma questa autovettura non è intestata a lei No, la mia è in assistenza Questa macchina è di mio padre Ecco, lo vede? Io la guido soltanto E allora c'è il sequestro del veicolo e del libretto di circolazione E perché? È da un mese che l'accompagna Da oltre 30 giorni? Allora, oltre al sequestro, ci sono anche 3600 euro di multa Articolo 94, bis del codice della strada È vietato guidare un'auto intestata da altre persone anche se si tratta di familiari e amici salvo comunicazione alla motorizzazione civile Vabbè, ma questa è una legge assurda, mi scusi E quindi deve mettersi il proprietario al volante Lui! Ma è riduce da una cataratta! Purtroppo gli ex combattenti non fanno eccessione Quindi o vi cambiate posto o sono 3600 euro di multa 3600? Cambiamo di posto sì, ma questo è veramente assurdo Pur di levare soldi qua agli automobilisti Guardi che questa norma esiste da almeno 10 anni E perché la state applicando proprio adesso, dico io? Il ministro è stato chiaro Rispetto del codice della strada Non importa in che condizioni è il guidatore L'importante è che sia il proprietario del veicolo È contento che abbiamo chiuso un occhio? Prego procedete, andate avanti Procedi? Procedi però, occhio! Bene così, più a destra, più a sin... No, 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 un po' più... No, no... Grazie a tutti.